Grazie a tutti. Grazie a tutti. La folia e il matrimonio di Virginia Woolf, libro etico da Spirani e che condisce il pretesto per questo incontro a cui abbiamo dato il titolo di Virginia Woolf e la questione donna. Ora nel corso della serata preciseremo quale è l'accezione della questione donna e come questa si combina con Virginia Woolf che, come ciascuno sa, è stata un'importante scrittrice nel novecento, la cui fluva però ha dato anche motivo e materia di scrittura a molti, a geografi, geografi, commentatori, intorno alla questione se fosse genio, se fosse folle, se fosse pazza, se fosse malata mentale e se fosse genio in quanto folle o folle in quanto genio. Insomma, costruendo attorno a Virginia Woolf un personaggio a seconda delle propensioni, a seconda dei favori verso questa o quella impostazione, verso questa o quella liturgica. Quindi questa sera è anche l'occasione di esplorare questa questione della follia, della pazzia, della cosiddetta malattia mentale, di attraversare quindi questa credenza, questo luogo comune peraltro così radicato, così facilmente condivisibile, e più o due volte a prescindere da un'analisi, da un'intervenzione in merito alla portata della facile etichetta di folle, di malato, di pazzo, di malato mentale. E' una questione che è tutta attuale, anche oggi, oggi più per l'interesse che ha verso gli adulti, per ciò che riguarda i bambini. Sicuramente non è ignorata l'etichettatura che in molti casi nelle scuole avviene verso quei bambini considerati difficili, considerati dall'attenzione fruquante, considerati iperattivi, iperattivi, e quindi in quanto i iperattivi malati. E quindi sono fatti il progetto di un trattamento precoce, trattamento precoce che cosa vuol dire somministrazione di psicofagici. E questo sottoledita, tra virgolette, della scienza, che ha riproposto come volontà, in un antico parolano degli anni 50, e che sarebbe la panacea contro questa malattia dei bambini, bambini iperattivi. Quindi c'è questa questione del moltiplicarsi delle diagnosi di malattia, del moltiplicarsi, quindi anche delle somministrazioni farmacologiche, e della condivisione di riconoscere questo come un contenuto alla salute, alla salute di ciascuno. E forse è il caso di distinguere la salute da questa impostazione, che è una impostazione intollerante, verso ciascuna condotta che risulti anomala. La novalia, in questo processo di scientizzazione, la novalia diventa indice di malattia, quindi diventa malattia. Questo percorso non è di oggi Thomas Sass, una delle opere che ha scritto sin dagli anni 50, e quindi, constatando ciò che accadeva negli Stati Uniti, che poi è giunto anch'essi da noi, già negli anni 50 e 60, con i suoi primi libri, uno dei quali è, diciamo così, un libro che è rimasto famoso nella storia della mitologia psichiatra, che è il mito della malattia mentale, ha esplorato proprio questa questione, e cioè come sia facile accettare che qualcosa che comporta una differenza rispetto alla consuetudine possa venire etichettata di malattia e possa divenire anche, per così dire, quasi una formulazione scientifica, senza che venga in realtà esplorata quale sia la struttura, la logica di queste impostazioni. Noi abbiamo pubblicato, con la casa editrice Spirali, alcune opere di Thomas Sass, dal mito della malattia mentale, ritradotto e quindi ritroposto recentemente, alla battaglia per la salute, a farmacrazia che è il potere quindi del farmaco, così come vi ha notato negli Stati Uniti, e che però constatiamo oggi anche, non dico solo in Italia, ma anche qui in Europa. E quindi c'è questa questione. Virginia Woolf, se avesse accettato il trattamento, avrebbe potuto scrivere le sue opere? Sarebbe divenuta la scrittrice emblematica di una distenza intellettuale in quale le sue opere ci indicano? Se, grazie all'etichetta che sin da bambina aveva ricevuto, fosse vissuta in un'encoca in cui la specialità psicofarmacologica, come oggi fosse diventata così importante, avrebbe potuto avere questa libertà di scrivere, questa libertà intellettuale di esporre il suo pensiero che certamente non era conforme alla società inglese dell'epoca in cui è vissuto. E quindi sono varie le questioni che questo libro di Thomas Suss, attraverso l'analisi della vita, delle opere di alcuni enunciati e di reggine avunfici presenti. Per affrontare questo dibattito abbiamo... Abbiamo...